Signore, non può mandarmi in Vietnam. Io posso fare tutto ciò che voglio. Sono il presidente degli stramaledetti Stati Uniti d'America. Non ho ragione, Checkers. C'è scritto così sul biglietto da visita. Ci saranno dei tumulti per le strade. Io sono Secretariat. Credi che abbia paura di un paio di hippie? Ma non fatemi ridere. O comunque suoni una risata. La prego, farò qualsiasi cosa. Deve mandare qualcun altro al mio posto. Forse un accordo potrà essere accordato. Sono un atleta, non sono un eroe. Mio fratello Jeffrey Tariot è il vero eroe. Lui combatte contro i comunisti in Vietnam e questo è necessario per proteggere il nostro stile di vita. Un altro eroe è il presidente Nixon. Lui sì, che è un tipo fico. Fico! Che diavolo stai facendo, Bojack? Scusa, mamma. Guai a te se la butti via. Quella è ancora un'ottima sigaretta e quindi la devi finire tutta. Ma io non la voglio. E io non voglio essere la madre di uno che molla. Finiscila. Oh, Cristo santo. Non sai neanche fumare una sigaretta. Ehi, non piangere. Ricordatelo. Non devi piangere. Sei tu che l'hai voluto. Mi punisci perché l'ho rubata o perché sto fumando? Ti sto punendo perché sei ancora vivo. Ah, Bojack, non dovresti gettare la sigaretta accesa. Va bene, chiamo il 911. No.